Istituto Comprensivo Don Bosco Come scuola siamo sempre aperti al confronto e alla relazione col territorio che riteniamo fondamentale per poter crescere alunni competenti. Una scuola con tanti plessi, un istituto che certamente dà tanto lavoro al corpo docente e a tutti quanti voi. È bello vederli fuori tutti così compatti, coesi e aperti anche alle novità? Assolutamente sì, il nostro istituto è composto da 16 plessi, 9 dell'infanzia e 5 di scuola primaria. E sono proprio questi 5 plessi di scuola primaria che oggi sono coinvolti in questa bellissima iniziativa, in particolare le classi terze e le classi quarte. Lavorare insieme, in sinergia e andando nella stessa direzione tutti i plessi è proprio uno degli obiettivi che ci siamo proposti in questo anno scolastico. Tutti i nostri 16 plessi, compresi quindi i plessi di scuola secondaria di primo grado, svolgono le medesime attività frutto di una programmazione congiunta di istituto. Oggi il volley, il mangiare sano, le colazioni nutrienti, quindi anche una promozione per le nostre bontà culinarie, oltre che per una realtà come la Corigliano Volley che fa tanto per i giovani? Assolutamente sì, promuoviamo la corretta alimentazione, un'alimentazione sana ma soprattutto un'alimentazione frutto di risorse a chilometro zero perché promuoviamo le risorse del nostro territorio, quindi l'olio in questo caso e le arance. Questa sinergia con la Corigliano Volley possiamo dirlo, anche se ancora i ragazzi si stanno divertendo, è un evento da ripetere, è qualcosa che potrebbe diventare una consuetudine? Ci auguriamo di sì, noi siamo aperti come dicevo prima alle sinergie e sicuramente ci saranno degli sbocchi futuri che vedremo in seguito quali potranno essere, ma noi siamo totalmente disponibili e ringraziamo ancora una volta la Corigliano Volley.